L'unica posizione processuale da rivedere è quella di Claudio Olovivo, che dovrà essere giudicato di nuovo dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, ma solo rispetto alla circostanza di aver agevolato il gruppo di Cosa Nostra degli Emanuello. Sono state infatti pubblicate le motivazioni che hanno condotto i giudici della Corte di Cassazione a confermare le condanne imposte agli altri due imputati, Giuseppe Billizzi e Gianfranco Di Natale, coinvolti nell'inchiesta antimafia Compendium che consentì di ricostruire una serie di estorsioni ma anche contatti tra affiliati nel nord Italia. La condanna di Olovivo invece era già stata ridotta in appello. I giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta però dovranno nuovamente pronunciarsi a seguito dell'annullamento deciso dalla Cassazione.